Il non tempo dell'infanzia, quel momento in cui gli attimi sono eterni come noi, all'improvviso, in un istante, si rompe. Il non tempo dell'infanzia, quel momento in cui gli attimi sono eterni come noi, all'improvviso. La meridiana della mia vita allungava la sua ombra sull'estate del 2012. Lì sarebbe finita per sempre la mia infanzia. La Belva, il nuovo romanzo di Francesca Bertuzzi. Newton Compton Editori.